Come va? Sì, sì, le prime file sono ieri sera stampate e pesete scambiate le poste. Sì, qualcuno si è scambiato e stavate qua. Scusi, ma tutto bene? Milano, buonasera, buonasera a tutti. Grazie per essere ancora qui. Mamma, ma mi vuoi... Cioè, piuttosto, tipo, metti in ombra a me, ma illumina un attimo tutto. Grazie, grazie per essere ancora qui, grazie per essere ancora qui dopo questo anno. Grazie per essere ancora qui dopo tutti questi anni. Sì, dal 2009. Ogni tanto mi guardo indietro e dico, se ne è passato di tempo. Un bel po' di tempo che sto un po' invecchiando. Ma spero sempre di più, di condividere sempre di più, ogni anno, ogni giorno di più. Le cose mi hanno da dire con il mio esercito, con il mio pubblico. E spero che, come è nato questo tour, all'insegna del condivide, momenti, sensazioni, attimi. Spero che queste torrette che sono rimaste qui, anche in questa fase invernale, servano a mandare delle onde molto, molto... Poi dice che è utile o no, molto... positive. E spero che tutto quello che mi trovo davanti in queste date qua, che abbiamo fatto, e tutto quello, tutti gli occhi che mi sono trovato davanti in questi anni, non passino mai. Grazie a tutti.